Campionato italiani allievi a betone, super gigante, si aspetta Lara Colturi e Lara a gol del team Ceccarelli si conferma medaglia d'oro. Cosa ci racconti? Beh, devo dire che ho usciato molto meglio rispetto alla prova di ieri, ho avuto delle belle sensazioni e ho migliorato i punti dove dovevo migliorare e dai, sono contenta. Dicevamo che a volte essere sempre la numero uno, la pressione, puoi giocare brutti scherzi, tu come vivi un po' questa... Sì, la pressione c'è sempre, devo dire che comunque la pressione è quella che ho io e quella che tutti si aspettano, un bel risultato da me. E alla fine adesso in questi giorni sto iniziando a capire che me ne devo un po' fregare e quindi niente, pensare totalmente ad altro, come devo sciare a me e basta. Simonelli, medaglia d'oro, campione italiano, super gigante allievi, dai una bella, una grande gara, cosa ci dici? Ma sì, è una bella gara, soprattutto mi è piaciuto un sacco il tracciato alla pista, già ero andato abbastanza bene ieri e quindi sono molto soddisfatto perché il Super G me l'aspettavo, mi aspettavo di poter fare un bel risultato ma non così bello, non così tanto bello. Signia Paci, Sporting Club Madonna di Cambiglio, dai un oro nel gigante categorie ragazze, una bella soddisfazione, cosa ci racconti? Ma sono davvero felice perché non me l'aspettavo, però il mio obiettivo era questo perché comunque dopo la vittoria del top 50 e il secondo posto dell'Alpecimbra speravo in una vittoria e sono veramente felice e spero che anche le prossime gare vadano come spero. Giovanni Scalisi è il nuovo campione italiano categoria ragazzi di gigante, emozionato? Sì, sono molto emozionato, è una bellissima gara con buonissime sensazioni, ho provato a dare il mio meglio, infatti abbiamo ottenuto quello che volevamo. Che Sciclub appartieni? Appartengo allo Sciclub Tre Nevio Vindoli. E i tuoi allenatori chi sono? I miei allenatori sono Tatone Marco e Ciminelli Davide. Arrivando qui alla Betone immaginavi un podio tricolore, come erano le sensazioni della vigilia? Siamo venuti qui comunque sempre per provare a fare medaglia, l'abbiamo ottenuta e darà bene così.